bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy allora eravamo rimasti che c'è la votazione a report on our current situation yes sir both sfrost and hyzant have mustered armies and are drawing upon castle wolfort as we speak given the sudden military action prince roland's execution has been stayed thank you anna we have much to consider indeed our situation may be grim but there is opportunity in chaos however we have scarce little time to find it what are you thinking benedict are we to seriously consider fighting under s frost's banners the time that house wolford could stand alone ended with the salt iron war there is no future for us if we do not cast our lot with the greater nation however we at least have the freedom of choice choice what choice do we have yeah i see you had an ulterior motive to requesting aid from s frost just so we could offer hyzant a glorious victory the archduke's army would be caught off guard are you certain hyzant would offer us asylum most certainly house and would be eager to bolster their flagging reputation by defeating s frost in the field doubtless both nations view us as prey on its last legs they forget that a cornered wolf is the most dangerous that means we must consider allying as fast as well if that is what we decide then so be it so long as we decide s frost did not ignite the fires of war lightly they prepared for 30 years even so they would only have the influence of manufacturers of hicks that we should be wade up if they had confidence in their chances of victory so it's not the point after what those bastards did i can't well say i saved the thought of fighting under them pur di non stare con questi quasi vogliono unire a quelli del sale che ci vogliono fare il culo ma io volevo provare quella tipa no, qua veramente non so cosa decidere ma io sinceramente io vorrei far fuori quelli del sale perché mi stanno sulle scatole ma non abbiamo altri elementi? penso proprio di sì grazie a tutti 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 ok no non l'abbiamo convinto ok rimaneggono sti due sti due ...quite true. ...certainly not. ...certainly not. ...and? ...I think... ...Indeed. Ok, mio Dio, devi portarla ai voti tanto, fa come vuole. Ok, abbiamo fatto cambiare idea a due, tra. Ok, quindi ce la dovremmo fare a combattere insieme a quelle di Serra. Ok, ce sono riuscito. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 il sole è una donna brutta donna, non è she? se si sticca più lungo, i miei cittadini sono apti a conoscere da l'attenzione io vorrei dare il mio primo bambino per un pezzo di bambino sì, e non è solo che i bambini che sarebbero più pezzi io vorrei chiamare la nostra legge come pitilessi, le caprize della natura ma sarebbe riuscita di lasciare questa sofferencia continuare se il senso ti mostrerà tu hai chiesto per un po' un po' di rio ha? cosa? ha! dovrei avere più l'ho mi devi dire che è sempre un piacere di vedere te, signore sono Caldezzana mi permette di evitare i raii di vostre domani evitare il sole? Non ero capace che era nel corso di prendere ordine. Sì, mi ha detto che ero già nato. Regno! Sì, grazie a tutti, regno! Come si... Non ho mai avuto un miracolo così. Zana, era era? Per la mia persone... Non c'è bisogno di solitari così. Icigol... Se non è troppo forte di me chiedere... Hai bisogno di una scuola? La storia di qualsiasi di Walford ha avuto anche la mia vicenda. E' un'onore di serviti, mio lord. Vi saliremo con l'armi aperti. E l'onore sarebbe completamente nostro. Probabilmente, avremo l'occasione di chiamare i vostri talenti. Vediamo che sa fare. Vento e fulmine. Cambia le condizioni dello scontro con il potere della pioggia degli uraganti. Vento e fulmine. Se puoi decidere che piove, fai fulmine e li fulmini. Per la mia vicenda. Per la mia vicenda. Per la mia vicenda. Per la mia vicenda. E sei sicuro che i altri santi non siano mai dubbi? we mustn't let a mere war stem the flow of our goods. Of course, Your Excellency. Once we have secured the Wulffort, to say nothing of the accolades you are sure to receive from the Holy One for bringing Wulffort. Hmm. At last, Exham and those sniveling, they will see who among the saintly seven truly wields the power. It is time to grasp the glory we deserve, Booker. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. O è così che ti vogliamo far credere? Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 abbiamo comunque dovremmo sfruttare la magia elettrica in più c'hanno un arciere di là c'è un pochino di ministri archibaldi e che dovremmo sfruttare I'll hold him here Minister Archibald No My heart yet beats This place So the cycle of war and chaos begins a new And he's also an arciera You flatter me Still I doubt you'll emerge victorious Without me on your side that is The name's Archibald Allow me into your ranks I couldn't ask one so elderly to risk his life This greybeard survived the salt iron war With not but the bow in his back I'll have you know I haven't many years left lad If that is what you wish then I shall not refuse Ok Quindi più lontano più fa danno Ok Ok Quindi Ok. Solo uno a livello 13. 12, 12, 12, 12. Ah beh dai. Questi nuovi dove stanno? Sono a livello 11. Ok. Dovevo dire... di fare... Aspetta fammi salvare. Ok. Facciamo qualche missione per vedere questi come stanno. Oh no. Aspetta. Questi devono essere a livello 11. Ehm... Voglio vedere se posso alzare qualcosa. Qualcuno. Allora. Ah bene. Questa non c'è proprio niente. Allora. Iniziare. Avanzai aperto. Allora. Al Signale. Allora. 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 Tall accidentally. Letra. Siies. ah cuoio posso far salire questi argento argento cuoio cuoio argento vabbè io direi di far salire questo allora sinceramente sono deciso tra quello di ghiaccio e quello di fuoco anche perché adesso quello di ghiaccio fa più danno grazie a tutti grazie a tutti non ho capito lo posso cambiare ghiaccio incantato oppure prigione di ghiaccio ora non mi ricordo quale delle due era comunque vediamo per far salire questi legno e pietra ok facciamoci questo legno perfetto to battle? excellent you would have mile you d Ok, questi sono di quelli del sale. Grazie a tutti. 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 Oh, me l'avvicinò. 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 Oh, no. E gli ha fatto il malocchio. Oh, me l'avvicinò. 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 This battle is ours. You'll get no mercy from us Ready or not Here I come Such fun I did it Grazie a tutti. 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 Time to take flight. Grazie a tutti. 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 Buono. 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 Quindi ci vuole un'altra di pietra. questa. e invece a quest'altro ci vuole la fibra. Buono. 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 Grazie a tutti. 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 molto bene Grazie a tutti Ah, dobbiamo prendere sta fibra fibra e pietra Ok, 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 pietra Nel video vi è piaciuto mettete un like se volete vedere come avanti la storia e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!